Fabrizio Corona che è qui davanti La confidenza è stato un amore platonico per vent'anni con me, solo platonico però Non ha mai avuto rapporti sessuali con Fabrizio in vita sua? No, no Lo giurerebbe su qualsiasi cosa? No, giurare io non giuro mai Tutto nella vita può essere manovrato Viviamo in un paese, in un mondo non in un paese Dalle elezioni politiche a tutto quello che ci va dietro Allora, lei le sentendono a parlare, spesso si sentono parole come appunto amicizia, rapporti, fiducia Che ok, un ambito lavorativo sono cose che magari non tutti danno importanza Invece per lei sembrano importantissime, sembrano la base, il punto di partenza Assolutamente è la base, non è... sembra Se tu lavori con delle persone e queste hanno fiducia di te Cedono la loro vita a te e tu la fai crescere, la fai diventare dei personaggi Li fai diventare artisti se hanno l'arte Però deve esserci una base seria sotto E la base seria è quella La sincerità, l'onestà e anche l'affetto Pensa possa essere stato questo il suo punto di forza rispetto agli altri? Prima di tutto sì Per me erano trattati come figli tutti Figli per modo di dire insomma Fai conto che io a casa mia tutti i giorni avevo un grande tavolone che teneva circa 35-36 persone E questo tavolone non bastava Era le ore 13, il campanello suonava e si riempiva Ma non è che c'erano gente comune C'era di tutto dai direttori di rete, direttori di giornale, agli artisti C'era un po' di tutto Da lì poi sono nate tante connessioni dove abbiamo fatto dei programmi Ti faccio un piccolo esempio Un giorno avevo Antonio Marano, direttore di Rai 2 Era a casa mia E mi dice lei le sto preparando una trasmissione televisiva musicale che si chiama X Factor So che qua nel palazzo che hai tu abita Morgan, sì davvero te lo chiamo L'ho chiamato, è sceso e l'ha preso a fare X Factor Che lo conduceva a quei tempi Simona Ventura Ed è sceso con Asia Argento Poi mi dice sai ho sentito parlare di una che è molto brava Che si chiama Mara Maionchi Sì, la vedo domani perché lei dovrebbe scrivermi delle canzoni per Luisa Corna Mi ha chiesto l'appuntamento e la vedo E da lì Mara Maionchi guarda che successo ha avuto e dove è arrivata oggi Oggi nelle migliori trasmissioni musicali Poi è una che di musica ne capisce Ne ha tirati fuori tanti Dalla Giuseppe Ferrero a Gianna Nannini Gianna Nannini, Tiziano Ferro eccetera eccetera Mara Maionchi è un po' come lei Forse in comune avete il fatto che siete passati da gestire persone ad essere poi frontman Tra l'altro però quello è un suo rimpianto Io l'ho sentita spesso Che tornassi indietro non lo farei Non lo farei più perché sai la televisione ti uccide Ti può dare popolarità, successo, soldi Però diventi poi vittima di te stesso Io credo quelle poche cose che non sono andate bene della mia vita Fanno parte di essere diventato un personaggio a livello mediatico Cosa che proprio se oggi potessi non lo farei più Però vedi anche voi mi avete chiamato perché la gente mi conosce Esatto, esatto Se io vado nei locali, che vado ancora a fare qualche apparizione Si riempie il locale perché o magari metto che l'Elemora cerca volti nuovi per la tv O l'Elemora cerca personaggi per lanciare Questo è uno stimolo perché le persone vengono a incontrarti e a vederti Sai sotto il mio ufficio ogni giorno c'era la media di 4-500 persone Che veniva per cercarmi E non era facile l'ora raggiungermi Un po' perché bisognava pagare il cartello che sai che c'era attaccato fuori Perché le cose vanno sempre dette prima, mai dopo E poi perché devi avere delle doti Se non hai doti io non ti prendo Testuali parole, in una vecchia intervista lei ha detto Ho creato tante cose a tavolino, anche le vittorie dell'isola dei famosi Ecco, esiste qualcosa di vero nel mondo dello spettacolo o è tutto pilotato? Perché da quelle parole sembra un po' no? Lì per queste parole che ho detto ho preso un tapiro Perché un uomo intelligente come Antonio Ricci ha capito che qualcosa c'era Tutto nella vita può essere manovrato Viviamo in un paese, in un mondo non in un paese Dalle elezioni politiche a tutto quello che ci va dietro Alle vittorie Penso che in tanti anni Sono siete le scommesse dove si scommette su chi vincerà Sanremo Ci sarà un motivo Vabbè certo, immagino Sempre show rimane Sempre show rimane, dico Tutto fa spettacolo Io sono dell'idea che quando in un qualsiasi ambiente Quando c'è un business Esatto, girano soldi poi si sa Insomma, è così che funziona il mondo Vedi come mi chiama? Tisoro Ciao Fabri, grazie Grazie di tutti Poi sia Poi sia Poi sia